Mio padre è entrato nello stabilimento nel periodo del fascismo, quando ha fatto tutta la guerra all'interno dello stabilimento e anche loro mi dicevano che, e anche mio padre diceva che buttavano addirittura dei pezzi di macchinario col camion buttavano dei pezzi di macchinario dal pontile, avevamo un pontile per scaricare il carbone fossile per la fonderia buttavano addirittura dei pezzi di macchinario a mare per non farli trovare dai tedeschi perché portavano via tutte le macchine dagli stabilimenti e allora c'era la fonderia che lavorava tanto da noi, c'erano tante ciminiere, lavoravano parecchio e in quel periodo lì appunto mio zio è stato deportato in Russia è stato deportato in Russia comunque anche questo è stato un periodo che ci ricordiamo per sentito dire e per raccontato non abbiamo vissuto completamente e direttamente come quelli successivi comunque anche noi che siamo usciti dalla guerra abbiamo vissuto dei momenti non tanto belli all'interno perché ci sono state le grandi lotte che abbiamo fatto, ne abbiamo fatto parecchi quei tempi là io ero ancora un operaio e mi ricordo che quando sfilavamo per la città eravamo un bel numero e la gente ci seguiva nel periodo dopo la guerra ho dei ricordi che possono avere i bambini di quell'età lì perché io sono del 44, perciò ero giovane, mi ricordo bene, in Natale in fabbrica anche noi e mi ricordo la direzione che offriva i regali di Natale ai figli dei lavoratori facevamo la festa, la beffana dei lavoratori, andavamo in un cinema, in un locale, il cinema qua a Savona e facevamo la distribuzione dei giocattoli ed era una cosa molto simpatica, molto bella per noi bambini era forse l'unico regalo che riuscivamo ad avere in quel periodo e sono stati periodi belli, belli nel senso di ripresa, dei ricordi che mi mancano mi ricordo ancora il fucile che mi hanno regalato quando ero bambino piccolo, 4-5 anni quando è cambiata la direzione che da pubblici, partecipazione statale, siamo passati privati si è avvertito che qualcosa si avrebbe cambiato, le promesse erano tante io personalmente diciamo che ho fatto un passo avanti nella carriera perché sono arrivato al massimo livello dell'impiegato, però si avvertiva che era una cosa campata in aria basti pensare che alle mie dipendenze hanno dato due persone che prima erano superiori a me di livello, l'hanno messa alle mie dipendenze, uno era caporeparto addirittura in un reparto della fabbrica, era caporeparto, l'ha messo mio sottordine, un'altra signora che era responsabile del movimento l'ha messa al mio sottordine, si capiva che volevano mescolare le carte che c'era qualcosa che non quadrava, le abbiamo tirate avanti un po' di anni, quando poi ci hanno comunicato che saremmo andati in cassa integrazione per poco periodo ci hanno detto, poco tempo, io mi avevo permesso a quei tempi di dire al capo personale, ci state raccontando una balla perché lo sappiamo che avete voglia di chiudere, il capo personale mi ha detto, lei è sempre lo stesso disfattista che dice sempre le cose, non va mai bene niente, protesta sempre e poi l'ho rivisto questo signore, l'ho rivisto e gli ho detto, si ricorda cosa mi aveva detto? E invece gli risultati sono questi, che siamo tutti a spasso. Allora, quando sono cominciati gli attentati qua in Savona, la preoccupazione era molto grande, era molto grande, le bombe scoppiavano nei portoni dei condomini, in via Giacchiero è scappiata la bomba, allora ci eravamo organizzati, io ero in una squadra con mio fratello e facevamo delle ronde nei quartieri periferici perché io allora a quei tempi abitavo in periferia, facevamo delle ronde, facevamo due ore, tre ore di turno, facevamo queste ronde, ma c'era una forte tensione, all'interno dello stabilimento diciamo che l'ho avvertita un po' meno, l'ho avvertita un po' meno, sembrava un po' diciamo a meno, a mio parere, sembrava un fortino, ecco, un fortino, non so se la mia impressione fosse giusta, però l'avvertivo più fuori dallo stabilimento questo timore, all'interno diciamo di no. Penso che le Brigate rosse, almeno per quanto ne so io, nello stabilimento di Savona non abbiano mai attecchito proprio, perché era, diciamo che era un forte gruppo, un forte gruppo compatto, maggior parte sinistra, penso che se avessimo sentito qualcosa di questo l'avremmo certamente bloccato sull'istante. La popolazione attorno alla fabbrica, specialmente la città, il centro città, seguiva molto questo landazzo dell'andamento, gli orari della fabbrica. Io ricordo che a mezzogiorno suonava la sirena, tutti cessavano i lavori e andavano a casa. Io abitavo in Viagnella a quei tempi, mia madre sentiva la sirena, diceva prepariamo Caiva papà. Dal punto di vista di attività dopo lavoro e culturali, diciamo, lo stabilimento è sempre stata, ha avuto sempre un occhio di riguardo anche per i lavoratori. Basta partire dalla società Aldo Cailani, che era nata la società per mandare i bambini, i figli dei dipendenti nelle colonie montane. Col passare degli anni, questa necessità di mandare i figli nella colonia montana è un po' diminuita, perché ci si è stato un po' il boom economico, la gente preferiva andare in ferie con tutta la famiglia, avevano più possibilità. Allora la società, la direzione, ha pensato di rivolgere l'utilizzo, di svolgere l'utilizzo di questa colonia, di questa casa, trasformarla in casa per ferie e per i dipendenti. Come circolo possiamo dire che il circolo era molto attivo, il circolo funzionava effettivamente molto bene e aveva una segretaria interna al circolo che oltre al proprio lavoro svolgeva anche la segretaria del circolo stesso. Avevamo diverse sezioni che si occupavano di tutta l'attività dopo lavoristica dei dipendenti. Da giochi avevamo i campi da bocce, allora avevamo il circolo bocce, avevamo il circolo tama, il circolo tennis, avevamo calcio, tutto, scacchi, podismo, più ne anni più ne metta. E era una bella cosa, si riuscivano ad avere dei rapporti fra i dipendenti che erano molto cameratisti. Facevamo dei tornei di calcio, reparto contro reparto, si arrivava ad avere 14, 15, 16 squadre ogni torneo. Era una cosa che durava dei mesi ed era bellissimo. A sabato mattina ci trovavamo tutti a giocare a calcio. Proprio una cosa molto bella. Piano piano anche lì i fondi sono diminuiti. Io mi ricordo che avevo formato poi un gruppo maratoneta fondista, podismo, che poi i fondi sono un po' diminuiti. Il personale e le assunzioni giovani ce ne sono più state poche. Il personale è invecchiato e piano piano, come in tutte le cose, se non c'è di ricambio va un po' a morire. Poi mancavano anche i finanziamenti, che sono quelle cose più importanti. comunque diciamo che abbiamo avuto un periodo bello. Ancora adesso, pensandoci, un po' di nostalgia viene. Viene la nostalgia sapendo com'è finita anche queste cose qua. Perché, per esempio, avevamo una biblioteca con dei volumi enormi, bellissimi, antichi, che non sappiamo. Un certo punto è sparita, non sappiamo, col fallimento, con l'alienazione, non sappiamo. Io personalmente non sono mai riuscito a capire dove siano andate tutte queste nostre proprietà.